Buonasera amici appassionati bianconeri di Udinese TV ben ritrovati con l'informazione sportiva a poche ore dalla decima giornata di campionato Lazio contro Udinese una squadra bianconera che è ovviamente in formissima e nel punto che abbiamo realizzato questo oggi andiamo anche a cercare di capire quale saranno le scelte di formazione. L'Udinese si appresta a raggiungere la capitale per sfidare la Lazio di Maurizio Sarri reduce da uno striminzito pareggio in Coppa contro lo Sturm Graz ma che in campionato viaggia a ritmi altissimi tanto da essere diventata la miglior difesa della Serie A dopo i due gol rifilati dall'Udinese all'ex prima della classe l'Atalanta. Per i bianconeri sarà un test molto importante contro una squadra che al pari dei bergamaschi non sarà facile da affrontare o anche da rimontare in caso di ennesimo svantaggio della squadra di Sottil che resta però per distacco la più produttiva dei cinque maggiori campionati europei proprio per punti da situazione di svantaggio e la certezza è che il mister bianconero sceglierà con cura i giocatori da buttare nella mischia considerando le caratteristiche dell'avversario e di come potrà approcciare la gara considerando il fatto che ha giocato giovedì sera in Europa League. Sarri ha definito una stupidaggine per usare un termine dulcorato il turnover ma contro l'Udinese rimetterà in campo i giocatori che hanno riposato in Coppa da Vesino a Romagnoli passando per Marusic e Felipe Anderson. Anche l'Udinese ha i suoi soliti dubbi a cui si aggiunge però la situazione più spinosa vale a dire quella di Rodrigo Becao. È in atto il solito duello tra la volontà del giocatore di tornare in campo e la normale cautela che vige in queste circostanze. La giornata di sabato, quella della rifinitura prima della partenza per Roma sarà decisiva per capire se il numero 50 ci sarà altrimenti ancora spazio ai bossè ma comunque filtra leggero ottimismo sul recupero del brasiliano. In mediana sarà al suo posto Wallace così come Pereira e Udoge sugli esterni mentre Samarzic e Arslan insidiano Mackengo e Lovric per una maglia da titolare. I due sono partiti dall'inizio contro la Roma alla Dacia Arena e nella sfida contro l'altra capitolina allo Stadio Olimpico potrebbero tornare a esserlo. Davanti scalpita ancora Beto che vorrebbe ripetere la prima doppietta in A trovata proprio lo scorso anno contro la squadra di Maurizio Sarri. E vediamolo il programma del decimo turno di campionato che inizierà già domani con Empoli-Monza il derby di Torino e Atalanta-Sassuolo la lunch match della domenica inter-salernitana poi Lazio-Udinese big match della domenica insieme a Spezia-Cremonese alle 3 Napoli-Bologna alle 6 Verona-Milan 20.45 Sampdoria-Roma e Lecce-Fiorentina si giocheranno di lunedì classifica che parla eloquentemente di un Udinese al terzo posto insieme proprio alla Lazio a quota 20 punti quindi sarà molto interessante seguire tutto quello che succederà allo Stadio Olimpico domenica alle ore 15 abbiamo parlato di Udinese facciamo anche il focus relativo alla squadra bianco-celeste Tra le varie classifiche in cui l'Udinese sta primeggiando in questa fase iniziale della stagione c'è anche quella relativa alla differenza dei punti di una squadra tra la scorsa e l'attuale annata e qui la banda sottile non solo è prima ma lo è anche con un notevole distacco 11 punti in più rispetto al 2021-2022 in sole 9 giornate sono davvero tanti e basta questo per capire probabilmente la nuova mentalità delle zebrette se c'è però un'altra squadra che ha fatto dei notevoli progressi negli ultimi mesi allora quella è la Lazio e guarda un po' nella classifica sopra citata alle spalle dei friulani ci sono proprio i capitolini che rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso preso in esame quest'anno hanno 6 punti in più in poche parole Lazio Udinese sarà la sfida tra le due squadre che sono migliorate di più e se la squadra di Sarri è migliorata lo deve anche al fatto che probabilmente dopo un anno sono stati assimilati al meglio i concetti tattici dell'ex allenatore di Napoli Juventus e Chelsea concetti tattici che sono evidenti soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva la Lazio infatti è la miglior difesa della Serie A insieme all'Atalanta con 5 gol subiti in 810 minuti fa impressione pensare che l'anno scorso nello stesso lasso di tempo i bianco celesti di Reti ne avevano incassate 17 quasi 2 a partita e infatti Provedel adesso non subisce gol in campionato dalla sconfitta contro Napoli per 2 a 1 del 3 settembre scorso certo in Europa le cose sono un po' diverse a vedere per credere il pareggio per 2 a 2 ottenuto contro lo Sturm Graz ma in Serie A la squadra di Lotito sembra una macchina da guerra arriva infatti da 4 vittorie consecutive e nelle ultime 3 gare ha vinto sempre per 4 a 0 mai nessuno nella storia ci era riuscito numeri che possono anche fare paura ma l'Udinese deve andare a Roma convinta delle proprie qualità anche l'Atalanta sembrava impenetrabile e sappiamo tutti com'è finita soddisfazione internazionale per l'Udinese per un suo tesserato Destiny Udoge che è finito nella lista dei migliori 20 finalisti dell'European Golden Boy 2022 sono 4 gli italiani tra cui proprio Destiny Udoge oltre anche a Gnonto del Leeds Miretti della Juventus oltre a Scalvini dell'Atalanta qui vedete la lista dei 20 giocatori favorito Bellingham del Borussia Dortmund ma occhio anche a Musiala del Bayern Monaco sicuramente una bella incoronazione per uno dei giovani migliori della Serie A nonostante non venga convocato in nazionale Destiny Udoge ha parlato di Udinese invece Maurizio Domizzi che oggi abbiamo intercettato per la trasmissione il venerdì del direttore con Massimo Campazzo e Michele Crescitiello intervista integrale che andrà questa sera noi sentiamo un piccolo estratto certo è che forse nemmeno il più ottimista dei tifosi poteva aspettarselo come hai visto questo inizio clamoroso dell'Udinese? ma sì aspettarselo era difficile io credo che è della parte più bella credo che la differenza sostanziale rispetto alle ultime annate sta sicuramente in qualche giocatore importante che è cresciuto e in qualche giovane che ha preso consapevolezza e chiaramente sta avendo altri tipi di prestazioni e sta dando altri tipi di prestazioni questo sicuro però quello che balsa gli occhi secondo me è lo spirito che ha portato sottile quando parlo di spirito non mi riferisco solo prettamente al gruppo squadra ma a tutto l'ambiente perché dall'inizio si è respirato un ambiente molto molto positivo ricordiamo 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 anche che giocherà la primavera domani Udinese Milan alle ore 13 partita che andrà in differita alle ore 15 su Udinese TV poi vi faremo anche sentire tutte le voci dei protagonisti cambiando sport abbandonando il pallone possiamo parlare di una notizia molto importante per il ciclismo Italia da impazzire perché ci sarà una finale tra Filippo Ganna e Jonathan Milan per loro nell'inseguimento una finale da non perdere come ci racconta Gazzetta.it stasera alle 20.36 a Saint-Quentin et Nivelan in Francia Top Ganna con il record del mondo deve assolutamente a livello del mare in 4 minuti e 693 centesimi secondo miglior tempo invece per il Friulano con 4 minuti 3 secondi e 12 decimi trema il record del mondo assoluto di Lampier sui 4 chilometri che è di 3 minuti 59 secondi e 9 decimi realizzato in quota davvero una sfida da non perdere questa sera o fra poco alle 20.36 una notizia molto importante anche per lo sport friulano noi adesso ci concentriamo sulla palla spicchi a cominciare dalla P.U.A. Wild West Udine che andrà a chiusi per difendere il primato sentiamo le parole di Martellossi diciamo che il combattuto necessariamente è parziale sia perché sono state giocate solamente due partite sia perché nella seconda in particolare abbiamo giocato senza brisco e quindi che è un giocatore che si stava inserendo quindi è ovvio che tutto questo allunga certamente il processo di integrazione e di coesione del gruppo però quindi considerando tutto questo è ovvio che abbiamo fatto vedere dei momenti di ottima pallacanestro alternati a delle nefandezze come forse normale sia in questo periodo quindi dobbiamo cercare di appianare livellare questa situazione nel più breve tempo possibile ecco ovviamente Brisco l'ha citato lei torno sull'argomento e chiedo se sarà della partita di chiusi a naso credo di no ma glielo farò glielo chiedo apposta e poi appunto che cosa è successo come mai non ha giocato c'è stato un rallentamento un raffaticamento muscolare o insomma come mai questa scelta no diciamo che è un problema abbastanza semplice ed è un'infiammazione calcaneare e che non è un problema particolarmente rilevante ma come dire seccante in questo periodo perché evidentemente non permette vari movimenti tra cui la spinta per il tiro e quindi insomma ovviamente pensiamo di recuperarlo con la giusta pazienza faremo dei test in questa settimana e valuteremo in extremis l'eventuale utilizzo però insomma diciamo che con serenità pensiamo che la proiezione possa essere per la settimana dopo ma l'anno scorso non c'è dubbio che è stata la squadra che possiamo definire rivelazione squadra molto ben allenata che ha giocato una ottima pallacanestro di energia di copertura del campo sia offensivo che difensivo è chiaro che quest'anno sono cambiati molto gli interpreti però il dettame tecnico sarà questo quindi dovremmo fare attenzione ai momenti in cui si gaseranno molto nel tiro da tre punti dovremmo fare attenzione ai momenti in cui presseranno però insomma prima di tutto dobbiamo preoccuparci noi stessi e pensare che questo deve essere il primo test in trasferta molto importante un test sicuramente importante come abbiamo detto domenica alle ore 18 a più al Wild West Udine che sarà di scena quindi a Chiusi insieme a Ferrara Chieti Forlì Pistoia San Severo Fortitudo Bologna big match della giornata così come molto interessante anche Tramek 100 Rimini alle 12.30 di domenica si giocherà a Nardò la sfida tra i pugliesi e Mantova e il turno che si aprirà ancora una volta sabato alle ore 20 al Palagesteco tra la squadra di Cividale e di coach Pillastrini contro Ravenna ancora 0 punti in classifica abbiamo intervistato a riguardo l'assistant coach della web gesteco Cividale Federico Vecchi chiaramente ancora dobbiamo progredire perché comunque i 78 punti presi in trasferta diciamo hanno comunque una valenza diversa rispetto ai 78 in casa quindi già da questo punto di vista abbiamo fatto un passo in avanti Ravenna che avversario è sotto gli occhi di tutti lo score negativo però bisogna sempre tenere le antenne dritte sì io peraltro sono fra virgolette un ex nel senso che sono stato a Ravenna è stata la mia ultima esperienza prima di venire qua quindi conosco bene l'ambiente una parte una parte dei giocatori e anche il coaching staff è sicuramente una squadra in crescita ha inserito un americano abbastanza tardi è comunque una squadra quasi completamente nuova nei giocatori importanti e quindi è ovvio che in questo momento sia un po' work in progress ma già l'ultima gara ha fatto vedere dei notevoli passi in avanti quindi dobbiamo assolutamente renderci conto di questo per farci trovare pronti in una parte in casa che per noi è decisiva quest'anno è il tuo primo nella prima squadra però già conoscevi benissimo l'ambiente in casa può essere davvero un vantaggio sfruttare quell'entusiasmo che si tocca con mano sì noi abbiamo veramente una marea gialla che è veramente una marea e ci condiziona in positivo dobbiamo essere bravi tutti a mantenere la spensieratezza e l'entusiasmo che c'è ma anche così a vivere quel pelo di pressione in più che quest'anno avremo per forza perché alzandosi la sticcera del campionato le difficoltà si alzano quindi un po' questo equilibrio fra entusiasmo e voglio dire umiltà sarà la chiave per fare una bella annata e vedremo che fine settimana sarà per il basket friulano noi siamo arrivati in chiusura con il nostro TG Sportivo a me non resta che salutarvi e augurarvi una buona serata sempre qui in nostra compagnia per far parte a me non resta il nostro dietro andiamo praying per